Il Santuario di Maria Santissima dell'Alto Mare, storia, spiritualità e arte. Questo è il titolo del volume scritto da Don Antonio Basile, ex parroco del Santuario di Andria. Ascoltiamo l'intervista. Don Antonio, siamo in prossimità della festa dell'Alto Mare, manca meno di un mese, cadrà il prossimo 11 giugno. Intanto lei ha scritto un opuscolo dal titolo Il Santuario di Maria Santissima dell'Alto Mare, storia, spiritualità e arte. Allora, che cosa racconta in questo opuscolo? Sono stato parroco all'Alto Mare per 22 anni e mi sono appassionato fin dal primo momento a ricercare le fonti storiche che documentassero la vita del Santuario e la devozione che in questo Santuario si è sviluppata. Ho raccolto parecchio materiale. Quando ho dovuto cambiare parrocchia perché il Vesco mi ha affidato a un'altra comunità, ho pensato di preparare uno scritto sintetico che facesse riferimento a quella che è la storia del Santuario, la spiritualità sviluppata all'interno del Santuario e anche alcuni elementi artistici che si sono anche arricchiti durante questi miei 22 anni. Qualche chicca che può anticiparci? Io direi che la prima cosa è che dal periodo dell'incoronazione della Madonna, avvenuto il 3 settembre 1899, per oltre un secolo, non è stato scritto niente. E questo mi dispiace perché la fede va anche documentata, proprio a vantaggio di quelli che si avvicinano al Santuario. Una chicca di cui tu parli, ne dico due. Certo, certo. La Pietà dell'Alto Mare, che è una statua in bronzo di circa due quintali, inaugurata il giorno di Pentecoste, il 30 maggio del 2004, e dieci anni dopo abbiamo inaugurato sempre dello stesso artista, dal professor Luigi Enzo Mattei di Bologna, lo stesso scultore, la Via Crucis, 14 quadri della Via Crucis che abbiamo installato e che Monsignor Calabro inaugurò il 13 di marzo del 2014, a un anno di elezione del Papa Francesco. Che cosa si augura dopo questa pubblicazione? Mi auguro che la pubblicazione contribuisca un po' ad alimentare la memoria degli eventi storici legati al Santuario. D'altra parte l'attenzione allo sviluppo della devozione e allo sviluppo dell'approfondimento della spiritualità mariana, grazie al rinnovamento promosso dal Vaticano II e all'azione dei pastori, il Papa e i Vescovi del luogo, mi auguro che possa spingere altri devoti ad approfondire la conoscenza non solo del Santuario ma soprattutto della Madonna e il modo come poter vivere alla Scuola di Maria la propria fede battesimale. Grazie a tutti.